La discoteca New Carubo ha festeggiato sabato scorso i suoi 41 anni di attività. Al taglio della torta, presente anche l'inviato di Striscia alla Notizia, Luca Abete. Vediamo. Ciao Ciletto Channel, la festa è anche per te stasera. 41 anni New Carubo, c'è Luca Abete. Davide Pecora, titolare di questa splendida discoteca, 41esimo anniversario del New Carubo di Agropoli, discoteca storica. Allora Davide, i tuoi commenti a caldo per la serata appena iniziata? Ma non posso che essere felicissimo di festeggiare 41 anni, ne ho molti di più per il Carubo 41. Nel 1972, il 12 luglio di quell'anno, si inaugurò questa struttura. All'epoca si chiamava Ristorante Bar Dancing Il Carubo. È diventata discoteca poi negli anni 90 e adesso è consacrato come locale unico forse in Italia a non aver mai cambiato il nome e la gestione, tutte e due le cose insieme, in così tanti lunghi anni. In rappresentanza dell'amministrazione comunale di Agropoli, l'assessore Eugenio Benevento che questa sera vuole fare gli auguri al New Carubo di Agropoli che compie il suo 41esimo anniversario. Ovviamente gli auguri miei dell'intera amministrazione comunale di Agropoli. Il New Carubo rappresenta la storia di Agropoli e ha dato lusso alla nostra città consentendoci di farci conoscere anche al di fuori della nostra regione. Per questo ha un augurio e un ringraziamento alla famiglia Pecora, in mano particolare a Davide Pecora che nel corso degli anni è riuscito a mantenere, in 41 anni, ma non li dimostra, è riuscito a mantenere questa discoteca sempre nei primissimi posti tra le migliori discoteche d'Italia. Quindi un grazie da parte mia e dell'amministrazione comunale alla famiglia Pecora e in modo particolare a Davide e al figlio Michele.